la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, eccoci alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino, diamo un'occhiata alla prima pagina il titolo di apertura lockdown, l'avviso di De Luca Stretta sulla Movida, alcol da asporto vietato dopo le 22 giro di vite su feste e matrimoni il governatore rispettate le regole, la penultima decisione prima di richiudere tutto poi il focus, ricoveri in intensiva, la campania è peggio della Lombardia le società rinviare solo Genoa Toro, la Serie A il governo valuta l'Alt, Juve Napoli partita a rischio di lato l'anticipazione didattica digitale, una rivoluzione che va governata Andiamo sul centro pagina, con la cronaca, innamorati e felici li ho uccisi a Lecce, la confessione shock dello studente, volevo farli a pezzi e sempre su centro pagina, l'assemblea degli industriali Confindustria Sud, meno bonus, più infrastrutture, bonomi al governo nuovo patto per il paese, ricoveri, piano conte antiritardi, sei commissari di taglio basso, il principe, la ballerina, Cosentino, assolto dopo nove anni faccio il volontario, incuria, assolto, non fu riciclaggio, mafioso lasciamo la prima pagina del mattino, andiamo a vedere che cosa c'è in primo piano La lotta al virus, campania penultimo avviso prima di un nuovo lockdown De Luca taglia gli orari della Movida e riduce il numero di persone per matrimoni e feste, stop alla vendita degli alcolici dopo le 22 si potrà continuare a bere solo ai tavoli Come annunciato, arriva la stretta per il Covid, si blocca la Movida del titolo che preannuncia in mattinata l'ordinanza regionale con la nuova stretta ma i paletti pesanti non sono solamente per bar, ristoranti e in generale luoghi di aggregazione, ma per feste private, non più di 20 persone per matrimoni e cerimonie vari, ovvero il settore che era ripartito più lentamente dopo mesi di crisi, senza contare un dettaglio che mette i brividi l'ordinanza, la numero 75 dell'era Covid, campana, parla sempre nell'incipit di prime misure drastiche, come a dire che ne sono in arrivo altre insomma, ricomincia la giostra, colpa dell'impennata dei contagi che ieri registra un nuovo picco, 286 positivi di taglio basso, rimanendo su questa pagina l'intervista a Paola Scerto Campanello d'allarme vaccinare gli anziani contro l'influenza conosciamo meglio il Covid e sappiamo di più sulle terapie ma aumentano pure i malati ricoverati in terapia intensiva lasciamo questa pagina e andiamo avanti l'Assemblea di Confindustria la proposta di Bonomi nuovo patto per il Paese Conte apre agli industriali il leader degli imprenditori sul ricoveri non si può fallire ora serve una visione alta e il Premier si vince solo tutti insieme ma dal MES al reddito restano le distanze la proposta è arrivata alla prima uscita ufficiale del neopresidente degli industriali Carlo Bonomi dopo mesi di rapporti ai minimi termini la Confindustria per bocca del suo leader ha proposto al governo un grande e comune patto per l'Italia un accordo che dovrebbe coinvolgere tutte le parti sociali dettato più che da una necessità da un imperativo categorico non sprecare l'occasione che per l'Italia rischia di essere l'ultima nell'uso dei fondi europei del recovery plan al presidente del Consiglio Conte che era in platea Bonomi lo ha detto senza usare mezzi termini se falliremo non andrà a casa solo lei ma ci andremo tutti e rimanendo su questa pagina recovery la mostra anti-ritardi sei commissari per l'attuazione Giuseppe Conte sa bene che sull'utilizzo dei 209 miliardi del recovery fund rischia la pelle perché sono la partita più importante giocata dal paese negli ultimi decenni per costruire il domani così per tentare di non perderla il premier all'assemblea di Confindustria annuncia una legge per rispettare il cronoprogramma che verrà fissato dall'Unione Europea nella realizzazione dei vari progetti del recovery plan l'idea come dicono a Palazzo Chigi deve essere ancora messa a terra nero su bianco ma l'impostazione che ha in mente Conte sembra seguire il modello Genova o Expo sei super commissari sei guardiani del recovery plan diversi da chi verrà incaricato di realizzare le varie opere cambiamo argomento la missione diplomatica attenzione su Cina e 5G oggi Pompeo da Conte il segretario di Stato americano arriva questa mattina imponenti le misure di sicurezza i colloqui con il premier e poi di maio il governo darà rassicurazioni su Huawei vediamo al via la due giorni del segretario di Stato americano Mike Pompeo in una Roma super blindata temi caldi i rapporti con la Cina la sfida 5G Pompeo incontrerà il premier Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio quindi domani dialogherà con il segretario di Stato in Vaticano Monsignor Pietro Parolin Pompeo atterrerà alle 9.10 all'aeroporto militare di Ciampino con la consorte e una delegazione già ieri nella capitale sono state effettuate le prime bonifiche da parte delle forze dell'ordine la macchina della security messa in campo è imponente di taglio basso le mire di Pechino sui porti italiani e le preoccupazioni di Washington Trump teme che la Cina possa conquistare i porti italiani per quattro ragioni principali la prima è che conosce la strategia di Xi Jinping il quale vuole creare una catena di porti dalla Grecia all'Italia la Cina ha infatti acquisito il controllo del porto del Pireo in Grecia dove ha investito 600 milioni di euro con la sua Costco Shipping e adesso vorrebbe ripetere l'operazione con l'Italia la seconda ragione è che la Cina intende conquistare questi porti non soltanto per trasportare le sue merci ma anche per ampliarli costruendo infrastrutture energetiche e altre colossali costruzioni la terza ragione è simbolica la capacità di un paese di mettere a segno obiettivi complessi e ambiziosi accresce il suo prestigio internazionale e la sua credibilità la quarta riguarda la possibilità di uno scontro armato tra gli Stati Uniti e la Cina nel Marcinese meridionale gli Stati Uniti vorrebbero evitarlo ma sanno che è una possibilità oggettiva e nel caso di un conflitto la Casa Bianca avrebbe bisogno di portare dalla sua parte tutta l'Europa lasciamo il mattino spostiamoci sulla città anche qui la lotta al Covid De Luca più rigore o chiudo tutto nuova ordinanza stretta sulla Movida stop a feste e tavolate centropagina con la fotonotizia scuola scuola la ripartenza campanelle dopo sette mesi a Rocca Piemonte piove in aula in classe solo tre giorni a campagna pericolo virus niente mensa e scuola bus di lato due casi sospetti salernitana in ansia a Salerno al nautico un positivo isolati in 15 nocera inferiore allarme municipio dipendente infetto e poi sempre di lato la cronaca torre orsai a schianto in moto perde la vita operaio di morigerati a Salerno la rivolta dei precari graduatori errate a rischio il posto sempre a Salerno posti a lungomare residenti contro la soppressione nocera inferiore radiologo infermieri carte false all'asl per rimborsi gonfiati di taglio basso l'emergenza maltempo sarno subito i fondi per le vasche la regione finanzia 600 mila euro per le strutture antifrane e nella piana del se l'agricoltura devastata un milione di danni andiamo un'occhiata a cronache l'apertura l'avviso di De Luca fino al 7 ottobre lockdown l'ultimatum penultima ordinanza poi chiudo tutto stretta sulla movida vietato l'asporto di alcol dopo le 22 feste e matrimoni altre restrizioni no a sagre e fiere centropagina protesta delle associazioni per la nuova ordinanza esposito di confesercenti ascoltiamo il commercio o sarà la fine di lato dopo nove anni assolto Cosentino assolto in appello Cosentino che parla di un inferno l'intervista a Celano gli elettori aprono gli occhi davanti alle menzogne e poi spostiamoci su centropagina di nuovo la regione grandi manovre coscioni all'agenzia sanità Picarone prende quota il ballottaggio a Pagani De Prisco sfida la Fezza al confronto tv poi nota della società della Salernitana non ci sono calciatori risultati positivi e infine Castel San Giorgio 12 fogli di accuse sesso e politica l'imprenditore a luci rosse la variante Pucnaf da sospetta in un deposito e termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità diamo la linea alla regia rieccoci in studio riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno l'apertura con la scuola la carica dei 110.000 studenti in classe ok la prima ma a Salerno mancano 5.000 a banchi al nautico preside staff in quarantena camerota aule deserte per paura del covid il reportage a bracci virtuali con i compagni strano e diverso ma è bellissimo di lato il calcio vigilia di Coppa Italia con l'incubo tamponi alle 18 la partita con il Stuttirol Salernitana test sospetti per due calciatori il club vanno ripetuti nessun positivo accertato la pandemia stretta di De Luca ira dei gestori così non sopravviveremo ancora epidemia coronavirus 153 casi in una settimana pronti i 24 posti letto del da Procida andiamo su centro pagina il maltempo Sarno la storia di Scoppetta qui ho perso mio figlio non lascio questa casa sempre sul centro pagina l'inchiesta scandalo farmacie stop da Banca Italia ai fondi dall'estero al lavoro procure antimafia il sistema per acquisire attività piene di debiti per il distributore l'accusa di concorrenza sleale poi l'ambiente cava scoperta una discarica abusiva lunga un chilometro di taglio basso la politica regionali la legge beffa ora Pellegrino rischia il calcolo dei resti può penalizzare Italia Viva e Carpentieri lasciamo la prima pagina e andiamo a vedere andiamo a nocera inferiore falsi straordinari sanitari nei guai la procura chiede il processo per un medico e due infermieri oltre 300 mila euro il danno all'asle tra il 2009 e il 2014 il GIP dovrà decidere sui reati di truffa e falsità ideologica il radiologo avrebbe lavorato a Sapri Eboli Oliveto Citra e Cava Rocca Piemonte l'incidente morì investito ragazza rischia il giudizio Cava dei Tirreni discariche illegali a croce scatta l'allarme ambientale Pagani Deprisco sfida la fezza confrontiamoci in tv a Braciliano residui vegetali incendiati agricoltore denunciato Baronissi ingiurie e offese sui social e sui giornali Pasquile Querela Siniscalco e De Salvo e Angri treni ad alta velocità stop ad auto e pedoni andiamo ad eboli batteri killer in ospedale due pazienti contagiati l'ASL negativi i controlli il dirigente Minervini riparti attivi dopo ripetuti interventi un terzo degente ha contratto il virus all'esterno della struttura Ponte Cagnano Faiano illeciti al cimitero archiviate le accuse a Battipaglia studenti trasferiti le famiglie troppi disagi eboli spaccio prostituzione truffa 20 indagati a Pollica incubo frane sul convento francescano un piano restyling da 4 milioni e a Polla SOS dal pronto soccorso più medici per il virus lasciamo il mattino e spostiamoci su cronache in primo piano dopo la giunta regionale a Palazzo Santa Lucia e corsa alla presidenza delle otto commissioni Luca Cascone resta ai trasporti pubblici e sempre ad un uomo di De Luca quella dell'ambiente sempre su questa pagina il commento del sindaco di Napoli De Magistris De Luca è un uomo di destra alle regionali ha vinto il centro-destra di taglio basso Coscioni lascia la sanità si consola con un incarico ad agenzia nel delicato settore pronto l'uomo di fiducia Picarone il cardiochirurgo del Ruggi spingerebbe invece per Savastano che ha sostenuto alle elezioni andiamo avanti sempre su cronaca andiamo a Castel San Giorgio incontri piccanti per l'imprenditore con casalinghe e formose dipendenti alcune alcune aziende che facevano capo direttamente all'imprenditore sembra siano state rivendute a personaggi romeni mentre altre beneficiano di prestanomi è ricca di particolari la lettera che sta circolando in questi giorni nel territorio comunale amministrato da Paola Lanzara terreni agricoli trasformati in edificabili prima che si realizzasse il PUC di Castel San Giorgio grazie alla mediazione del padre di un consigliere comunale il deposito del gasolio in località Trivia oggetto di altri messaggi tutto regolarmente allegato alla missiva di 12 pagine andiamo a Pollica monumento digitale dedicato ad Angelo Vassallo l'opera è stata consegnata al sindaco di Polli Cacciaroli Stefano Pisani dall'autore Marco del Sorbo ad Albanella dall'associazione La Panchina scusate dall'associazione La Panchina un defibrillatore per Ottati l'installazione lo scorso 23 settembre di taglio basso su questa pagina Tribunale di Sala Consilina Piero De Luca insoddisfacente la risposta del governo alla mia interrogazione la soppressione la soppressione del palazzo di giustizia sta creando non poche difficoltà a sacco a sacco archio arte apre il rifugio motola dopo mesi di lavoro l'appuntamento per l'inaugurazione è fissata per sabato 3 ottobre con una giornata ricca di iniziative andiamo a Teggiano fango e detriti invadono la strada i soccorsi sono al lavoro da ieri e ad Auletta paese isolato dalla frana dopo sei anni al via i lavori e questa è la cronaca con cui termina la nostra rassegna stampa vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona giornata